Cioè, Octavia, che cosa ci fai qui? Ci vuoi mettere proprio nei guai con Derek? Derek non c'è al lavoro, ma lei è qui. Niente, cioè, se quello lo scopre, ci ammazza. Ma che bella avere qualcuno che ci aggiusta le cose adesso! È bellissimo! Guarda, Derek, ti tengo solo per questo, perché mi aggiusti le cose. Poi il tuo lato possessivo ce lo facciamo andare bene. Eh sì, è ok, perfetto. Ha detto che è d'accordo. Possiamo scrivere il libro della vita, finalmente. Perché stai controllando? Ecco, lo muta da cuoricino! Perché stai controllando su chi lo sto scrivendo? Guardatelo! Cioè, ma te ne vuoi andare? Controlla pure cosa sta scrivendo Facebook! Sei inquietante! Vattene! C'è il bambino che piange! No, non gliene frega niente! Deve stare qua a controllare che cosa stiamo scrivendo! Bene, non possiamo nemmeno più scrivere quello che vogliamo. E niente, questi due stanno cercando di risolvere i loro problemi con scarsi successi. Decisamente scarsi. Fable ha scritto il libro della vita e adesso cattureremo la saga epica, che quindi praticamente chi metteremo qui dentro questo libro potrà essere riportato in vita. E lei vuole mettere una persona a cui tiene tanto, cioè Octavia. Quindi, se dovesse accadere qualcosa a Octavia, possiamo riportarla in vita. Diciamo, cosa stai facendo? Perfetto. Speriamo, l'hai messo nella libreria. Speriamo che Derek non lo trovi mai. Ma vediamo un po' i tarocchi che cosa ci dicono questa volta, va? Spero qualcosa di bello. Coppe, la coppa trabocca, la tua creatività stralipante travolge tutto ciò che trova nel suo passaggio, a seconda delle tue nuove emozioni e riversale nella tua arte. Siamo spiega di parlare di arte o pittura, ma lei è una scrittrice e quindi adesso le faccio scrivere dei libri che magari diventano dei best seller. Mi sa che non è molto ispirata al momento. Fable, proprio per niente. Una dinamica monosa tormentata, a volte un amore che muore porta dolore al cuore. Fable si innervosisce al solo pensiero. Com'è possibile che siamo parenti? No, in realtà non siete parenti, siete marito e moglie. Non ho fatto un incesto per piacere non dire queste cose. Se eravate fratello e sorella io non lo sapevo, eh, non c'entro niente. Ma sto bambino, guarda. Lì tignano tra di loro e poi uno si occupa del gatto e l'altro si occupa del bambino. Va bene. E niente, è finita la carriera dei libri d'amore di Fable qua. Questi due si lasceranno fra poco. No vabbè Fable, io te l'ho detto che non devi uscire così nel corridoio condominiale. Condominiale! Te l'ho già detto un miliardo di volte, sai perché? Sai perché? Per questo! E' in mezzo a ubriaco. Oh mio Dio, quanto è bello! Sembra Lupen quando vede le ragazze uguali. Eh, senti, corri, corri in casa, muoviti! Carini loro! Quanto sono dolci però! Che succede? Non lo so, sono diventati tristi. Sembra che stiamo facendo un discorso confortante. Ma non ti preoccupare. No, ma non piangere la mamma, non ci lasceremo mai! 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 Senti, non insegnare queste cose a tuo figlio per piacere! Che cosa? Passavo da queste parti un po' per caso, ma davanti a casa tua ho sentito il tuo amore attirarmi a te con la forza di una calamita. Io ho deciso di venire a salutarti, tutto bene? Ho sentito il tuo amore attirarmi a te? Ma tutto a posto! Ma che mi siete bevuti oggi tutti quanti? Babbo Inverno, cosa stai facendo? Aiuto, c'è un altro stalker, sì, con la scusa che mi sta ponendo i piatti e è venuto a guardare il bambino. Non è che mi rapisci il bambino. Dove le hai messi? Nella lavatrice poi! Oddio, Fable ha vinto un premio! Grazie alla scrittura e alla narrazione davvero incantevoli, Fable Scott ha vinto il premio delle stelle per il miglior libro. Se accetti il premio puoi trovarlo nell'inventario. Sì, 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 ovvio che l'accetto, sì, che l'accetto! Sono così commossa! Mitica! Grande! Oh, che un piangere! E niente, è una celebraità vera e propria! Ho pure vinto un premio! Sì, ho vinto un premio! Olè, Derek ha preso un'altra promozione, aiuto cuoco, bravissimo, complimenti! Però sta per avere un altro esaurimento nervoso e ho visto che praticamente vuole andare in vacanza. È il momento di una vacanza alla storia di Oasis Springs e in più Octavia ci sta stalkerando non poco, quindi Derek è molto stanco di tutto ciò e quindi sì, se ne andiamo in vacanza il più lontano possibile da tutti! Ciao a tutti, io sono Ellie e oggi torniamo a giocare con la Tiny Town 2! Ebbene sì, allora vi ho lasciato appunto anche in questo caso i fuori onda di Fable e di quello che stanno facendo. Infatti loro non ci sono veramente, sono in vacanza, l'ho spedito in vacanza così appunto si rilassano, si riposano, cercano di risolvere i loro conflitti amorosi. Infatti mi è uscito pure il bambino che è tutto contento. Prima vacanza, modalità vacanza attivata, Amir infibri l'azione per la sua prima vacanza con la famiglia, tutto il tempo per rilassarsi e divertirsi, cosa potrebbe esserci di meglio? E quindi appunto lui è super elettrizzato appunto per questa cosa e quindi lasciamo che si divertono. Ma noi che cosa facciamo qui allora se Fable non ci sta? Vediamo chi sta per arrivare, andiamo! Allora, io non ho idea di chi sia per arrivare, non ho presentimenti e quindi boh, vediamo, vediamo che cosa ci dice la ruota, vai a sorpresa, voglio la sorpresa! Ho paura però, ho paura! Allora, allora chi arriva? Chi arriva? Nooooooo, preferivo Marion e suo figlio Clive! Bene, ecco perché Ruby appariva continuamente appunto, anzi o meglio, è apparsa... Effettivamente è apparsa solo Ruby, sì, Ruby è apparsa nell'app di incontri e perché appunto sapeva che sarebbe arrivata lei al prossimo giro, diceva no, devo arrivare io, 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 a parte Judith, ma Judith non conta, Judith è apparsa 850.000 volte. Ok, bene, bene, casini in paradiso, allora qui ci sarà da ridere, qui non ci saranno problemi, ci sarà di più, il dramma di più, peggio ancora, questi si ammazzeranno tra di loro perché Ruby farà il doppio gioco con tutte e due, loro due si ammazzeranno, non lo so, succederà un casino, poi ci verranno i genitori, un casino, un casino, va bene, va bene. Bene, benvenuti e vediamo un po' quale sarà il vostro appartamento, quindi un numero da 1 a 6, no, l'1 già ce l'abbiamo, da 2 a 6, il numero 6, quindi, eh, aspetta, quindi questo è il numero 1, giusto, questo è il numero 2, 3, 4, cioè all'ultimo piano, 5, 6, all'ultimo piano stiamo andando, va bene, va bene, andiamo all'ultimo piano, perfetto, allora, cioè, si conteneranno pochissimo con Fable che sta sotto, non abbiamo dei vicini di casa, loro stanno all'ultimo piano, vediamo un po' questo ultimo piano com'è. Allora, appartamento 106, ebbene sì, già pensa a Opal, eccoli qua i nostri tre eroi pronti a ammazzarsi tra di loro, venite, venite, accomodatevi pure, mamma mia, vi dovete fare pure le scuole, forza, salire, 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 rubi già, arredamento in colore, cioè, ma dove siamo capitati? Cos'è questo posto? Però terzo piano, sì, dai, già, già ci sta, oh, oh, c'è solo un letto. Bene, benvenuti nel vostro appartamento, guardate che spettacolo, lui sta per vomitare, mi dicono che la stanno prendendo molto bene. Ok, allora, vediamo in che stato è questo appartamento, lui è, oddio, moriremo tutti, moriremo tutti, calmo, non morirà nessuno, lui è quello, il tv dice, ci hanno fregato, ci hanno fregato, ci vogliono uccidere, hanno la spazzatura in casa, questa è la porta d'ingresso, di qua non so cosa c'è, di qua c'è un bagno, ok, c'è un cono stradale, altra spazzatura, una vasca buttata qui, un frigorifero rotto e un solo letto, che praticamente se ne approprierà rubi, sappiatelo, infatti adesso lei se lo ha proprio, dice voi due dormite a terra, come fanno a dormire a terra? Non me ne frega niente, c'è un solo letto, dovete fare i gentiluomini, i gentleman dovete fare, capito? e poi di qua c'è il balcone che dà sull'esterno, ok, ok, è orrendo, quindi io qua ci devo far uscire praticamente tre camere e poi ovviamente uno di loro se ne andrà, cioè perché spero o due di loro se ne andranno, dipende se rubi sceglierà uno di loro o alla fine non sceglierà nessuno di loro, ma sceglierà qualcun altro, cioè è pieno di cibo schifezzeggero, però lei è molto ottimista lo stesso, va bene, ok, siete a zero con i fondi dell'unità familiare e va benissimo così, e io non so da dove inizio, ovviamente pure loro hanno di tutte e di più, no, sbagliato appartamento, appartamento, appartamento 106, sì, teletro e zampettanti, fuori dalla rete, greml, lurido, muffa, rivoltante e chi più ne ha più ne metta, ok, perfetto, loro inoltre, eh no, siamo fuori dalla rete, devono laurearsi, quindi io la cosa che gli farei fare subito, immediatamente, è proprio iscriversi, iscrivervi alla laurea, però qui siamo fuori dalla rete, quindi ci tocca andare da qualche altra parte, in biblioteca, nella famosa biblioteca, ma allora tutto a posto? Sì, siete contenti? Eh, se loro un po' meno perché dovranno dormire a terra, ma non gli possiamo nemmeno dare un saccappello, non abbiamo i soldi per comprare niente, ok, allora siamo in biblioteca, forza, vedete di... Annie! Sì, no vabbè, la madre, la madre, università, fa borse di studio, cosa state facendo? Fichi, fichi dove? No vabbè, ah no, meraviglioso, non ci possiamo nemmeno iscrivere all'università, perché non abbiamo 75 simoleon, eh, ma lei non si scoraggia, bene, beata te, e allora niente, tornatemene a casa e vediamo che cosa succede, su! Allora, facciamo un attimo un recap di chi sono e che cosa devono fare, perché non me lo ricordo! Allora, Ruby Gem, carriera influencer, stile decorativo scandinavo, colori pastello e toni delle gemme, challenge, laurearsi e completare l'aspirazione. Ruby Gem è la figlia di Opal e Sergio, della vecchia Tiny Town, ha deciso di lasciare il nido molto presto, anche se suo padre non era d'accordo, per inseguire i suoi sogni, infatti Tiny Town ne andava un po' strette, voleva vedere il mondo e facce nuove. completare la carriera e diventare famosa, vedremo, perché già Fable è diventata famosa, vediamo se tu sarai capace. Poi abbiamo... Egidio, fotografo freelance, stile decorativo classico moderno, colori neutro, metallici e pastello, challenge, laurearsi e completare l'aspirazione. Egidio è figlio di Annie, è molto ambizioso e ha deciso di seguire le orme di sua madre, ma con l'obiettivo di diventare un fotografo ricercato e famoso. primo obiettivo, laurearsi e conoscere tutto su questo mondo, per sbaragliare la concorrenza ed essere il migliore, completare la carriera e diventare famoso e conosciuto, questo è Egidio, mentre Ansel è social media o guru tecnologico, stile decorativo, industrial, come l'ho scritto, vabbè, industrial e gotico, colori gotico e metallo, challenge, laurearsi e completare l'aspirazione. Ansel è il figlio di Annie della vecchia Tiny Town, ha deciso di lasciare la sua vecchia casa solamente per seguire Ruby e aiutarla a crescere nella sua carriera e magari farsi bello ai suoi occhi, infatti i computer sono resti forti, non hanno segreti per lui, completare la carriera e trovare l'amore. Quindi niente ragazzi, dobbiamo andare da qualche parte dove c'è la corrente e soprattutto internet, perché dovete cercare un lavoro, andiamo al bar, ok, dobbiamo cercare un lavoro assolutissimamente, perché dovete iniziare a guadagnare, poi ovviamente laureandosi nel campo dove loro già lavorano, poi ok, arriveranno a livello 10 magari della carriera, queste cose qua, però nel frattempo devono lavorare normalmente, anche perché sennò come se la pagano l'università? Cioè è vero che chiederemo un prestito studentesco, però poi quel prestito lo dobbiamo pure ridare e quindi meglio che iniziamo appunto a lavorare. Quindi Ruby vuole fare l'influencer, ebbene sì, e loro due praticamente lavoreranno per lei in poche parole, questo già sta prendendo da bere, già abbiamo capito che tipo sei Ansel, sei quello che creerà problemi, che perde la testa e creerà problemi assolutamente, lui infatti farà i social media, quindi praticamente editerà i video che lei fa, lei li regista e lui li edita tutto quanto, si occupa appunto dei suoi social media, eccetera eccetera, tutte queste cose qua, guarda che brutto lavoro che ti tocca fare, lavorare per Ruby, guardate questi due cosa stanno facendo, ora appena non c'è il fratello subito ci prova, e lui invece fotografo, quindi scatterà le foto che saranno pubblicate sull'Instagram, che non sull'Instagram, sul Simstagram, che Ansel gestisce al posto di Ruby, cioè praticamente lei si fa i soldi al posto, e loro lavorano per lei gratis, e lei intasca tutto quello che loro le fanno guadagnare, in poche parole, lui fotografo freelance, a posto, ok ci siamo, lavori dati, tornate a venire a casa questa volta, cosa? come sono appena arrivate le bollette, ma siamo arrivati, ma io non ci credo, cioè, ma siamo seri che sono nostre, non ci credo, non ci voglio credere, no no Ruby mica lo fai tu, glielo fai fare a Egidio, che si deve fare figo per te ovviamente, vai Egidio lavora, muoviti, ce la farò, sei Ruby, guardami Ruby, Ruby guardami, non ti guarda Ruby, non te lo volevo dire, ma è così, non ti sta proprio calcolando, ok si ti sta guardando, ti sta guardando, forza, quanto tempo ci vuole, ce la fai a scacciare due mosche, un attimo che ce la farò, ce la farò, oh, ce l'ho fatta, mamma mia, visto, ce l'ho fatta, bravo, complimenti, guardate lei che si mette seduta, no vabbè, sì ma mo devo andare fino al terzo piano, qua ogni volta, forza, tornate su a casa, e questa volta rimaneteci, non usciamo più, sono stufata di fare le scale, no vabbè, non ci credo, Enne è già qui, aspetta dove sono i figli, invita a entrare, amori miei, miei bambini, mamma, lamentati delle bollette, bambina non è che ci fai un prestito, no scordatevelo, siete voluti andare via di casa subito, al posto di stare con mammina vostra, che vi manteneva, adesso vi arrangiate, oh se vera ma giusta, ovviamente Enne, Enne non si smogba, perché, mi spezzi il cuore come la matita, niente, non gliene frega assolutamente nulla, in Cidio, inoltre che ci provi, guardate di quei due, è tutta, è tutta snob, questa pioggia, mi ha già stufato, veramente non la sopporto più, pure lui, si stanno lamentando, insieme, appassionatamente, è nel frattempo, brava, saluta pure Ruby, è lei che guarda l'ansia e dice, ma questa quanta intenzione di rimanere qua, niente, Enne si è stabilita da noi, praticamente, Enne, te ne torni a casa tua, ma non avete un lavandino, scusatemi, che continuate a buttare, questo è un lavandino ragazzi, non ci credo, perché non c'è dell'acqua, e quindi non li potete lavare, ho capito, ho capito, ho capito adesso, ma non abbiamo nemmeno soldi, quindi dobbiamo aspettare, che qualcuno vada al lavoro qui, tipo, chi è che va al lavoro, fatemi vedere un po', allora, tu no, tu devi scegliere un incarico, catalogo primaverile, della pigiami iperbolici, ok, e dobbiamo trovare appunto, vabbè, abbiamo già la nostra modella perfetta, quindi le faremo mettere in pigiama, e poserà per noi, e quindi praticamente poi manderemo le foto, tu invece, se, computer, dobbiamo andare in biblioteca, comunque tu vai al lavoro, e no, oggi è lunedì, domani, domani, e tu pure domani, quindi vediamo se portano qualche soldo a casa, no, vabbè, non ci credo, è arrivata pure Opal, intervista Opal, a parte che tu dovessi andare in bagno, guarda che in bagno ce l'abbiamo, mamma, questa casa è un disastro, devi vedere dove sono finita, mamma, mamma mia, sì ragazzi, sono un lamento continuo, con questi genitori, lei ovviamente va a salutare pure gli altri due, ehi, chi ti ha dato il permesso di dormire nel letto di Ruby, te lo sei guadagnato, Ruby ti ha detto che potevi dormirci, ma iniziamo appunto, con le preferenze, alla di mangiare, mangia, 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 dov'è il frigo qua, comunque bello, esci dal mio letto, che Ruby deve andare a dormire, e andrà a dormire, e voi, non me ne frega niente, dove dormirete, lì c'è una vasca, se qualcuno ci vuole dormire dentro, ok, niente, Opal se n'è andata, questi due stanno facendo un casino, c'è sporcizia da tutte le parti, veramente da tutte le parti, qua abbiamo invaso il bagno di piatti, non l'ho capito, perché non li lavano, non c'è, ho capito, ma lavateli, sarebbe un bisogno della spazzatura, non abbiamo soldi, andate a lavorare, e troveremo i soldi, mo questi due saranno stanchissimi, domani voglio vedere come lavorano, ma vabbè, dettagli, l'importante che Ruby sia riposata, no vabbè, e Gidio non ce la facciamo più, sta andando a dormire sulla panchina, sotto la pioggia, la disperazione, ha capito l'idea, ha detto cavolo, fiove fa freddo, non posso dormire qua fuori, Ansel in queste condizioni, deve andare al lavoro, bene, sarà molto dura, l'unica riposata, è lei, e andrà al lavoro, esattamente sì, ok, poveri, ma che è successo, ti sei già malato, ma che cos'è sta roba qui, ma, perché hai una cosa da roba, e ti testa, no vabbè, hai messo malissimo, sto poveretto, mancare al lavoro, no, vai al lavoro, stai addormentato, oddio, abbiamo un problema qua, Fable era molto più infortunata, perché lei non aveva nessuno, con cui litigare per avere un letto, dormi che non c'è nessuno, sei l'unico che sta a casa, dormi, dormi, approfittane, Ansel ha lavorato senza sosta su un articolo, dieci minuti prima di pubblicarlo online, un collega pubblica lo stesso articolo, faglielo ritirare, perché lui è testa calda, Cindy, la sorella, sì, il collega di Ansel è furente con lui, ma non lo dirà nessuno, perché sa che Ansel farebbe la spia con gli altri, aumento del rendimento piccolo, grande, perfetto, Ansel ha arraffato degli oggetti, dei piatti sporchi, come se non ne avessimo abbastanza di piatti sporchi in casa, Ziggy vuole venire da noi, niente, stanno venendo tutte a trovarci, vieni Ziggy, vieni, vieni a vedere in che stato viviamo, ma pure Beatrice, ma vabbè, ma adoro, niente, grazie a questi ragazzi, li vedremo tutti, aspetta eh Beatrice, adesso arrivo, ma come vi hanno conciato, ma che razza di vestiti sono, o no, Ziggy, oh che bello vederti, Gidio, come stai, lei non so che cosa ha passato, ma c'è una puzza in questo appartamento, ma lo sento solo io, no no, e c'è proprio puzza puzza, allora, 317 simoleon, la prima cosa che farei, è prendere assolutissimamente, un bidone della spazzatura, ma proprio assolutissimamente, in modo che buttiamo sti cavoli di piatti, ok, nooo, non ci credo, già abbiamo l'affitto da pagare, mo ce l'ha pure multato, per i troppi rifiuti, sta andando malissimo qui, non abbiamo soldi, Ansel devi lavorare, Emma, come la vediamo che non abbiamo ancora macchina fotografica, ce l'hai, non ci credo, è pure quella costosa, Ruby, muoviti, deve lavorare pure lui, allora, scatta una foto di un sim in posa rilassata, Ruby, cambiati, mettiti in pigiama, è un po' puzzolente Ruby, però, non importa, non ci interessa, comunque sì, mi sa che lui si è ammalato pure, cioè, siamo appena arrivati, sta andando tutto male, lei è puzzolentissima, c'è il primo scatto fotografico con la modella puzzolente, siamo messi, male, allora, no, freelance, invia la foto per l'approvazione, speriamo che ce l'approvino, sfratto evitato, ok, meno male, siamo appena arrivati, già allo sfratto, dannazione, mi ho battuto il record, niente, dobbiamo aspettare per vedere se lui guadagna oppure no, ah, in posa rilassata, Ruby, torna qui, dobbiamo farla con una posa rilassata, non mi sembri molto rilassata, eh, io te lo dico, rilassato, vai, molto, no, non posso mandare queste foto al lavoro, bene, benissimo, il rifiuto, non avevo dubbi che me la rifiutavano, dannazione, vabbè, senti, queste buttiamole, e la rifacciamo, bravo, fatti una bella doccia, che così magari stai un po' un po' meglio, vieni, vieni, su, mettiti sempre in pigiama, perché è una foto in pigiama, ok, almeno non sei puzzolente, quindi magari questa volta ce l'accetta, va, vediamo, dai, vieni, brava, brava, mi piace così, facciamo più pose diverse, fantastica, sei bellissima, rubi, sei bellissima, sei bellissima, sei tutti noi, rubi, me la vedo lui che, mentre scatta le foto, si rubi così, sei bellissima, fantastica, meravigliosa, mi piaci, mandale tutte, una sarà quella giusta, poi se ci metti pure il dito davanti, mi sta che andiamo molto male qua, no, ce l'hanno rifiutata di nuovo, allora, a parte che la stiamo facendo senza luci, non ci sono luci in questa casa, ovviamente, perché fuori dalla rete, sì, sì, approvata, 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 ci abbiamo fatta, intanto abbiamo sempre l'affitto che ci aspetta, eccolo qua l'affitto, e niente, dobbiamo aspettare che ci arriva il giorno dopo, così possiamo pubblicarla, quindi niente, andiamo su, e boh, aspettiamo, tu hai sonno, Totti si è liberato il letto, no, tu ti levi adesso, subito, quello è il mio letto, allora, aspetta, la posta di oggi è stata consegnata, andiamo a vedere se la tua foto, vediamo un po', prendi la posta, loro sono in tre per pagare l'affitto, ma qua sarà dura persino in tre, a pagare l'affitto, eh, ok, allora, l'ho fatto venire qua in biblioteca, c'è Sergio, no, vabbè, ovunque vado c'è qualcuno di loro, pubblica la foto su Instagram, moda, Sergio, non sto pubblicando una foto di tua figlia, in ligeria, online, cosa? Dov'è che lo ammazzo? Non guardare Instagram, non guardare Instagram, mi raccomando, eh, non lo guardare, toglietegli il cellulare a quest'uomo, mai nella storia della fotografia di moda online, una foto va totalizzata così tanti mi piace, beh, se non altro in tempi recenti, il lavoro di Egidio è stato favoloso, il cliente è molto soddisfatto, 58 mi piace, grande, se lo sa, cosa? Come si chiama? Se lo sa Ruby, dice, è tutto merito mio, è tutto merito mio, comunque, io sono qui in biblioteca, anche per, a parte che sto aspettando che loro tornano, però, inoltrevamo la domanda di iscrizione, e poi cerchiamo un nuovo, ovviamente gli faccio quelle basse, perché comunque, con questo si, si guadagna un sacco di soldi, però, quindi gli faccio quelli con i carichi bassi, anche perché appunto, ancora deve studiare, e arrivare ai livelli più alti, eccetera, quindi, andiamo per gradi, perfetto, e lui ha mandato la domanda all'università, adesso aspettiamo che tornano gli altri due, così si iscrivono tutti quanti all'università, allora, è arrivato Ansel, tu per il lavoro devi, vabbè, devi aggiornare lo stato sui social media, quindi devi fare un po', intanto crearti un profilo sui social media, perché se no qua, non serve a niente, ok, e poi iniziamo ad aggiornare, in teoria tutti e tre dovrebbero diventare famosi, bisogna vedere anche chi diventerà famoso per primo, ovviamente Ruby vuole diventare lei, quella famosa, no, far diventare famosi gli altri, loro devono soltanto lavorare per lei, ok, lui ha iniziato ad avere 20 follower, ok, perfetto, manda la domanda all'università oppure tu, in iscrizione, mi piacerebbe farle visita, no, assolutamente no, adesso no, intanto portiamo pure Ruby qua, ha già 65 follower, lui, secondo me Ansel potrebbe fare concorrenza a Ruby, raggiungi il livello 2 di scrittura, tu, ok, e discuti di abiti di moda, vabbè, non ci interessa, poi, gli iscrivi pure tu all'università, appena hai fatto, ok, perfetto, si sono iscritti tutti e tre all'università, quello si è messo a giocare, si giocate, ah, ok, pure lui sta giocando, no, non state giocando lo stesso gioco, e lei che li guarda, bambini, bambini, lei invece pensa al business, assolutamente, anche perché dobbiamo fare soldi per pagare l'affitto, che non abbiamo assolutamente soldi, quindi già sono messi malissimo, perché sono appena arrivate appunto nell'appartamento, e devono pagare l'affitto, poi sono stati multati, hanno 600 simoleon di, eh, il sito lo ricorda da Torubi, 600 simoleon di spazzatura da pagare, perché hanno già infranto una regola del proprietario, cioè, un casino dietro l'altro, ovviamente un casino dietro l'altro, adesso io si sono iscritti all'università, hanno iniziato a lavorare, e boh, c'è tanto, tanto lavoro da fare con loro, soprattutto perché appunto dobbiamo pagare un sacco di roba, non sappiamo dove prendere i soldi, i genitori non ci vogliono aiutare, e fanno bene, Egidio ha creato un testamento, Egidio, niente, niente, questo ragazzo ha qualche problema, è vero che bisogna essere previdenti, perché non si sa mai che cosa può accadere nella vita, eccetera, eccetera, però, oh, bello mio, cioè, non si pensa a queste cose alla tua età, e vabbè, e niente, e niente, con questo è tutto, io vi saluto tutti, ci vediamo con il prossimo video, ciao! Ciao! Ciao!